Musica Bentrovati telespettatori di TV6 all'appuntamento con le previsioni meteorologiche per la giornata di mercoledì 7 dicembre. Dall'osservazione della mappa del tempo medio per l'Italia possiamo notare che su gran parte del territorio nazionale avremo condizioni di tempo stabile e soleggiato, ad eccezione delle estreme regioni meridionali dove avremo ancora possibilità di piogge, rovesci e qualche temporale. La ventilazione media risulterà provenire dai quadranti meridionali, soprattutto il sud Italia, mentre proverrà dai quadranti settentrionali al centro nord. Per quanto riguarda l'Abruzzo al mattino avremo condizioni di tempo nuvoloso su gran parte del territorio. Tuttavia nel corso del pomeriggio e della sera le condizioni meteorologiche miglioreranno velocemente con i cieli che si presenteranno sereni o poco nuvolosi su gran parte del territorio. La ventilazione risulterà debole dai quadranti settentrionali e le temperature stabili o in lieve diminuzione. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo appuntamento. Grazie per l'attenzione e al prossimo appuntamento.